Inside Vanoli Cremona, siamo qui con l'assistant coach di Cesare Pancotto, Paolo Lepore, che ringraziamo della presenza. Grazie a voi dell'invito. Abbiamo parlato con Cesare Pancotto un po' della struttura di squadra, fatta da un nucleo di italiani importante, su cui appunto sono stati ricamati dei complementi americani molto, molto, diciamo, inclini al concetto di lavoro di squadra. Ti faccio subito una domanda. Il linguaggio cestistico del campo spesso va di pari passo con il linguaggio anche fuori dal campo, oppure le cose si scindono praticamente? C'è una coesione anche fuori dal campo o è solo un linguaggio cestistico tecnico? Ma no, diciamo che sicuramente c'è un linguaggio cestistico perché ovviamente è come mettere assieme i tasselli di un puzzle e quindi di conseguenza se gli incastri tecnico e poi tattici, in base a quelle che sono le scelte che poi vengono fatte, coincidono, allora la squadra va in un determinato modo. Se purtroppo gli incastri non coincidono, allora è ovvio che poi iniziano delle situazioni, i problemi e quindi delle situazioni di difficoltà. È chiaro, è chiaro che questo vale anche, diciamo, fuori dal campo, cioè nel senso che se c'è, si lavora in un certo modo con, e c'è coesione anche non solo da un punto di vista tecnico, ma anche, diciamo, i giocatori stanno bene assieme, è ovvio che c'è un vantaggio notevole poi anche per quello che si vede sul campo. Quindi sicuramente le due cose vanno di pari passo. Cesare Pancotto parlava di lavoro, di progettualità, anche di tasselli da inserire man mano durante la stagione. Ti chiedo questo, voi organizzate una squadra senza Cusin, chiaramente, quella di inizio anno. Poi arriva un uomo importante, fondamentale, come Marco. Cosa cambia tatticamente proprio nello scacchiere con l'arrivo di Marco Cusin? Ma guarda, io credo che noi inizialmente avevamo scelto di prendere un giocatore come Garrett, che era un giocatore verticale, che doveva partire dalla panchina, ci doveva dare atletismo, cosa che comunque non è la caratteristica principale di Luca e quindi lo sapevamo, ha caratteristiche diverse, un lungo che si può aprire, che può tirare da fuori. È chiaro che Marco è un giocatore diverso, però comunque in lui abbiamo un po' ritrovato quello che cercavamo all'inizio dell'anno, perché poi comunque abbiamo avuto l'interregno di Posic, abbiamo avuto l'interregno di Ayman, che non sono stati confermati perché non corrispondevano a quello che noi stavamo cercando. C'è stata la fortuna e la bravura poi di aspettare, di avere la possibilità di prendere un giocatore come Marco, che secondo noi si sposava perfettamente a quello di cui avevamo bisogno, perché comunque Marco è un lungo verticale, che ci può dare quell'intimidazione che prima non avevamo. È un lungo che in attacco con un giocatore come Luca, io mi ricordo quando c'era Stipanovic, penso che debba ringraziare Vitali per tutte le situazioni che aveva di vantaggio bloccando e rollando e quindi di conseguenza abbiamo avuto la fortuna che quello che avevamo in mente e quello che poi si è concretizzato come giocatore era assolutamente quello di cui avevamo bisogno. Quindi avere un giocatore, comunque il centro della nazionale, per noi è stata sicuramente una fortuna, anche perché poi conosceva l'ambiente, conosceva, sapeva dove sarebbe venuto, noi conoscevamo lui e quindi non c'era l'incognita di prendere un giocatore che comunque quando arriva non sai mai, prendi informazioni però poi non sai come si ambienta, che tipo di relazioni si creano, anche se questo è un gruppo che ha dimostrato di essere molto aperto e coeso. Quindi diciamo che è stato l'uomo giusto al momento giusto. Perfetto, abbiamo così parlato degli aspetti positivi, positivissimi della Vanoli Cremona, ora entriamo un po' così nell'aspetto più spigoloso diciamo e chiedo a te i limiti della Vanoli Cremona, cioè gli aspetti su cui voi dovete ancora lavorare tantissimo per arrivare a quella, diciamo all'idea che tu e Cos Pancotto avete. Ma guarda, allora il discorso che facciamo sempre dall'inizio dell'anno e che continuiamo a fare è che comunque questa è una squadra giovane, che ha trovato degli equilibri in tempi brevi e credo che questa ovviamente sia stata la nostra fortuna, nonostante i problemi avuti con Luca, nonostante l'inserimento tardivo del centro, è una squadra che ha dimostrato di avere gente che ha voglia, appunto come dicevi anche tu prima, di lavorare. È chiaro che adesso arriva il difficile, perché comunque storicamente la seconda parte del campionato italiano è molto più difficile, è molto più difficile perché ovviamente tutti lottano per i propri obiettivi che possono essere la salvezza, che possono essere i play-off, che possono essere il fatto di vincere il campionato e soprattutto adesso non siamo più sconosciuti, quindi si è già affrontati tutti, ci si è già affrontati tutti, quindi si conoscono pregi e difetti, di conseguenza adesso noi nel genone di ritorno avremo meno il fattore sorpresa e quindi noi dobbiamo assolutamente pulire quelli che sono ovviamente gli aspetti che in quattro mesi, cinque mesi di lavoro non è che si è riuscito ad affrontare in maniera completa tutto. Abbiamo creato delle basi importanti, però la cosa che assolutamente adesso dobbiamo fare è il famoso salto di qualità, quindi cercare di pulire le situazioni offensive, cercare di essere disposti ad alzare il livello fisico perché sicuramente la seconda parte del campionato prevederà un impegno e un dispendio fisico maggiore e quindi sicuramente questo è quello che dovremo fare, cioè non ci dovremo accontentare di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché comunque adesso ogni partita sarà ancora più difficile di come lo era prima, proprio perché si conosce Kenny non è più uno sconosciuto, perché Cameron non è più uno sconosciuto, perché James non è più uno sconosciuto e quindi di conseguenza ci aspettiamo delle difese sempre più preparate e degli attacchi ovviamente sempre più rodati, quindi quello che vale per noi vale anche per gli altri, quindi è chiaro che la qualità del lavoro che bisognerà fare sarà sicuramente una qualità superiore e questo qualificherà chiaramente il nostro lavoro e poi di conseguenza i risultati. Inside Paolo Lepore, parliamo un po' della tua passione per lo scouting, le virtù innanzitutto di questo studio e da dove nasce questa passione? Ma guarda io diciamo che all'inizio è stato un po' casuale perché io sono arrivato qui a Cremona nell'altra società e facevamo la B2 e quindi diciamo che non è che avessi chissà quali interesse a vedere chissà cosa, però da subito quando ho iniziato a vedere, facevo la B2 ma mi piaceva ovviamente guardare l'Eurolega, la Serie A, l'Eurocap e da lì ho iniziato un po' così per caso, trovandole sui siti, scaricandole, insomma ovviamente in maniera non professionale come adesso dove abbiamo anche degli strumenti che ci permettono di, mi aiutano in questo lavoro, ho iniziato in questo modo ed è diventata una passione, quindi indipendentemente dal fatto di cercare determinati giocatori, a me proprio piace guardare partite di tutti i campionati d'Europa e in modo da vedere sempre anche sia a livello di gioco che a livello di giocatori quelle che sono le differenze perché poi ogni anno cambiano le tendenze, cambia il modo di giocare, cambia il modo di approcciarsi e di conseguenza il fatto di sapere più o meno esattamente che cosa succede in Germania, che cosa succede in Francia, che cosa succede in Israele, che cosa succede qui perché ovviamente anche il campionato italiano rispetto ai campionati esteri ha avuto una trasformazione, ci sono campionati che qualche anno fa erano sicuramente considerati campionati di secondo piano, mentre invece adesso la Germania ha avuto una crescita esponenziale in termini di palazzetti, di interesse, di gente disposta ad investire ed è sicuramente un campionato in rampa di lancio anche proprio come disponibilità economica, mentre invece noi forse in questo momento abbiamo fatto un mezzo passo indietro ma anche un mezzo passo avanti perché abbiamo dovuto riscoprire per esempio noi al primo anno dove prendiamo giocatori usciti dal college, quindi senza esperienza di campionati europei o comunque alla prima esperienza fuori dagli Stati Uniti, quindi di sicuro è cambiato un po' il modo e ogni anno se uno non rimane aggiornato su quello che succede, secondo me in questo lavoro rischia poi di perdere un po' la visione generale, quindi per me è proprio una cosa, io ogni giorno oltre a guardare ovviamente quello che mi interessa e mi serve per il mio lavoro mi piace proprio guardare l'Eurolega, l'Eurocup, l'Eurochallenge proprio per avere un quadro sempre più preciso completo di tutti i giocatori che ci sono, ovviamente sapendo se guardo un giocatore se lo guardo perché mi piace guardare l'Eurolega oppure se lo posso guardare anche dire ma magari questo qui potrebbe essere un giocatore che l'anno prossimo potrebbe interessare quindi mi preparo il mio file, la mia cartella per poi andarla ad aprire d'estate quando poi effettivamente effettivamente si va a cercare il tal giocatore se può essere perché poi se ne guardano 100 e magari di quei 100 lì non se ne prende neanche uno oppure si trova quello che invece si era già visto durante l'inverno e si diceva ma io ho visto questo secondo me è un ottimo giocatore si condivide l'idea e poi lo si va effettivamente a prendere però è un lavoro che si fa prima quindi è tutto un lavoro che deve partire da te perché poi ovviamente gli agenti fanno i loro, ognuno fa i propri interessi quindi se tu sei preparato secondo me dai modo anche al tuo interlocutore lo capisce se tu sai, se tu hai idea, se tu hai competenza e capacità quindi più sei preparato e più quindi questo ti aiuta poi nella costruzione, nella crescita sia personale che poi anche nel club in cui lavori, quindi credo che sia una cosa che qualifichi e poi ripeto sono avvantaggiato dal fatto che è una passione quindi la faccio veramente investendo tempo e investendo passione ogni volta che guardo un giocatore nuovo, una situazione nuova. Bene, a tal proposito proprio Paolo Lepore ci regalerà così una parentesi, un'analisi tecnico-tattica proprio a video per gli amici di Basket Coach e Basket Net.